ciao amici questo è un quiz è di colore rosso e fa subito estate cos'è è squaletto bay watch anche lui ma io pensavo a qualcosa che possono avere a casa i nostri amici dai ve lo dico io è l'anguria cosa c'è di meglio di una colorata succosa dissetante profumata anguria per godersi l'estate il nome scientifico è citrullus lanatus ma in italia ha tanti nomi anguria cocomero cocomera e di da voi come si chiama scrivetemelo nei commenti qui sotto sono curiosa lo sapete oggi voglio darvi alcune ricettine sfiziose per gustare l'anguria in modo creativo così non vi stancate mai di mangiarla e potete godere dei suoi tanti benefici per tutta l'estate e se l'idea vi stuzzica mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 come antipasto gustala con un po di spezie piccanti come pepe paprika o peperoncino e una spruzzatina di lime o limone 2 tagliala a cubetti condiscila con un po di olio e fetta per un pranzo o un break spezza fame leggero ma ricco di gusto 3 aggiungila all'insalata condiscila con un po di salsa di soia e limone da mangiare rigorosamente come prima portata 4 prepara delle fettine insaporiscile con un po di senape e mettili al posto del pomodoro in un tramezzino o in un panino e il sapore contrastato lo renderà molto particolare e gustoso 5 con la polpa dell'anguria fai delle palline mettile nel freezer ghiacciale e poi usale come cubetti di ghiaccio nei tuoi cocktail o nelle bibite l'anguria è ricca di minerali come magnesio e potassio e la consiglio in particolare agli sportivi in estate potete usarla come energy drink dopo una sudata sempre a patto che abbiate lo stomaco libero dissetta rimineralizza e previene i crampi wow simona che gusto già e voi cosa ne pensate amici per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano fate così condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social e organizzate aperitivi gourmet pranzetti e cenette con l'anguria e stupite tutti e se vi chiedono dove avete scoperto queste ricette deliziose siete generosi fategli vedere questo video io vi aspetto alla prossima sempre qui sul canale naturalmente ciao 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 ciao